ho voluto fare perché piace al nostro batterista, ma soprattutto perché è stato scritto da un famoso batterista che si chiama Stanton Moore, si dice così, Moore, e a me Arrino è piaciuto altrettanto, quindi lo proviamo, dedicato al nostro batterista Gino Caravieri, un applauso al nostro grande batterista Gino Caravieri! Grazie! 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 Sì 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 Geno Carabineri e Rino Garziani